E finalmente siamo giunti al nostro main event che è un face to face, un faccia a faccia tra i due che costituiranno il nostro main event delle Subaru Series David Johnson, lo sfidante contro il campione WWF, il diavolo, la leggenda delle leggende Bernie, una sfida epica ci aspetta, in quel del Subaru Series sono convinto di sapere come gestirà il tutto David Johnson, ora che ci troviamo ancora a tre settimane in questa montagna di Halloween praticamente, il solito oggi è 30 ottobre, David Johnson è prontissimo, per questo faccia a faccia però, in che si tratta di faccia a faccia è una cosa, ma quando si tratta davvero di altre cose di combattimenti, li vedremo delle belle Tutto buio, le luci si spengono, l'inferno sta giungendo a San Luis Beh, Bernie è senza dubbio la leggenda più popolare della WWF L'essere che ha scritto la storia da più di 25 anni, dunque, è l'uomo volto, l'uomo simbolo di questa azienda Il titolo WWF attorno alla vita è significato di una carriera davvero illustra Oggi un faccia a faccia che veramente sta di epico contro David Johnson che non dico che sia popolare come Bernie al momento tra gli appassionati di Dresden, ma sicuramente è uno che con il tempo ha fatto famiglia dappertutto Dunque, sarà un match davvero epico, quello del Super Hero Series Puntata di Halloween, quella numero 113 La puntata che si chiuderà quindi con questo faccia a faccia Tra due persone che chiaramente si rispettano, ma che al Super Hero Series tranno il meglio per dimostrare di non essere dei perdenti Beh, io sulla carta Bernie ha sicuramente qualcosa in più Però David Johnson ha... e poi sappiamo che David Johnson nei momenti più importanti fallisce Però sappiamo che è anche la prima volta che va per il titolo WWF Dunque ha una... sicuramente ha una motivazione in più per vincere Ma sfida tutt'altro che è chiusa, eh Assolutamente Siamo tutti pronti ragazzi per il faccia a faccia Che vedrà David Johnson e Bernie in questo nostro main event di Racing Sun David Johnson, a fighter, a killer, an actor You are a reason, or at least, it's all I keep here A lot of people think you are the future of this company But I want to warn you Before you do something I'm not Serbs I'm not Alexander I'm not Giffle Or Stefano Or whoever you want I am not an actor like him No, but I am the most devastating fighter this company ever had My name is Bernie My name is Bernie The Devil The Legend I know who you are, Bernie I see you are worried about me But I think you should think Before speaking You are right I am a poor A fighter An even An even An actor But it's all About the time Before I will become The WWF Champion Wow, dunque Paroloni Anche da parte di David Johnson Beh, abbiamo sentito uno scambio sicuramente molto interessante tra i due Bernie e David Johnson Che si fissano Questa è l'immagine più importante, penso, della serata Bernie si è voltato David Johnson Che fa l'origine Non ci credo Montiglio a bottom Montiglio a bottom Su Bernie Lavoroso No David Johnson Ebbene, d'altronde il number a contender Si deve mostrare di più nel campione E con queste immagini di un bel Bernie ha dichiarito al centro del ring E' veramente tutto L'appuntamento E alla prossima Ciao